mercoledì 5 ottobre buongiorno ben ritrovati su sicilia 24 eccoci qua per la nostra rassegna stampa mattutina vediamo cosa ci propongono stamane i quotidiani vediamo le anticipazioni in prima pagina andiamo quindi a scoprire quelli che sono gli argomenti principali della giornata cominciamo subito il nostro consueto giro partiamo dal quotidiano la sicilia questo uno dei tanti titoli in prima pagina sporca miseria andiamo nel dettaglio in italia la raccolta differenziata si attesta al 62 per cento veneto al top sicilia in coda con il 42,2 per cento ma almeno l'isola è in crescita si parla poi di caro energia meloni vede cingolani incontro con la futura premier il ministro potrebbe rimanere al suo posto price cap per ridurre il costo delle bollette e poi sic industria buongiorno ai leader ecco la ricetta giusta per uscire dalla crisi e ancora politica con salvini pronto a rinunciare al viminale farò quel che serve al paese dice il leader della lega caselle economiche a ministri tecnici regione fratelli d'italia in calza schifani quattro assessori all'ars e e poi la guerra in ucraina mosca agita lo spauracchio nucleare dall'italia quinto invio di armi a chieva intervista a gratteri che dice la mafia per i nostri politici oggi è un problema che non esiste più e poi a priolo nelle carte sul sindaco gli aiutini agli amici gianni domani dal jeep dice spiegherò tutto il primo cittadino di priolo gargalli che è finito ai domiciliari per concussione e poi a trapani un neonato in un campo dentro un sacchetto un agricoltore lo salva ed ora e caccia alla madre andiamo in taglio alto si parla di calcio oggi gioca il catania alle 15 la sfida alla vibonese per fare il poker di vittorie oltre 11 mila tifosi al massimino e sempre a catania ovviamente cambiamo argomento condannato buda il broker del clan e ancora catania minaccia l'inquilino moroso e viene arrestato a mascali restiamo quindi nel catanese il sindaco messina ha zerato la giunta mentre a taormina palazzo dei congressi la gestione è più vicina andiamo adesso a vedere la prima pagina della giornale di sicilia questo il titolo in primo piano appello anticrisi alle banche caro bollette conf commercio sicilia ha consegnato un dossier a banca italia chiedendo che gli istituti aprano i rubinetti del credito il rischio è di finire in mano agli strozzini bonomi nell'isola buongiorno un modo per farsi sentire e poi la politica regionale con fratelli d'italia che insiste quattro assessori e la presidenza dell'ars ancora politica salvini punta al viminale ma ci sono altre opzioni fondi europei residui l'italia avrà 40 miliardi e poi si parla anche dell'emergenza rifiuti città sommersa ovviamente il riferimento è a palermo ultimatum alla rap da parte del sindaco roberto lagalla che dice entro lunedì un piano per superare l'emergenza andiamo in taglio laterale favara soldi estorti e dipendenti tolti i beni a un'imprenditrice shock a paceco neonato gettato via soccorso e fortunatamente salvato mentre per quanto riguarda la rissa nei giorni scorsi avvenuta a palermo discoteca chiusa per un mese appunto vedete dopo la rissa andiamo in taglio alto si parla anche sul giornale di sicilia di calcio ma in questo caso di champions league con l'inter che batte il barcellona e il napoli invece che strapazza 6 a 1 l'ajax e poi si parla di ciccio ingrassia il grande attore dietro la comicità la nascita cento anni fa del grandissimo ciccio ingrassia e ancora la guerra in ucraina ipotesi di preparativi dei russi per un test nucleare la cia dice putin è pericoloso andiamo adesso a vedere la prima pagina dell'edizione palermitana della quotidiano la repubblica questo il titolo di apertura i sommersi delle carceri andiamo nel dettaglio i penitenziari siciliani ai vertici della graduatoria italiana dei suicidi sono già dieci dall'inizio dell'anno senza contare le morti sospette il garante parla di sovraffollamento insopportabile e poi repubblica racconta le storie di roberto e samuele e sempre per restare in tema l'intervista allo scrittore sandro bonvissuto che dice una discarica sociale che non riscatta i detenuti la politica con la crisi della sinistra i sindaci il pd sa parlare solo di alleanze mentre in questo parla è come miciche io vado a roma solo se ci danno la sanità in regione questa la posizione netta e perentoria da parte di miciche mentre per quanto riguarda la sanità due ambulatori per i ragazzi che sono schiavi del web lasciamo repubblica palermo andiamo adesso a vedere l'edizione nazionale della quotidiano la repubblica si parla di politica il viminale spacca la destra questo il titolo di repubblica che si sofferma ovviamente sulle manovre per il governo la lega compatta con salvini e il candidato naturale e chiede anche altri tre ministeri ma è un diktat che irrita giorgia meloni intanto la leader di fratelli d'italia incontra cingolani e telefona zelensky pieno sostegno dice al presidente ucraino conte invece chiama in piazza i pacifisti per quanto riguarda il gas la commissione boccia il piano gentiloni sugli aiuti europei e poi il reportage dal donbass liman e libera ma la battaglia è stata feroce proseguiamo con la nostra rassegna siamo adesso sulla corriere della sera c'è la guerra in ucraina in primo piano o meglio le mosse in questo caso di putin vedete che si da una parte arretra ma poi minaccia kiev sfonda lo zar evoca il test nucleare poi una telefonata tra zelensky e giorgia meloni si parla di piena sintonia europa divisa sul fondo per il caro bollette mattarella dice no alla logica della guerra mentre per quanto riguarda la politica la lega insiste flat tax e salvini al viminale queste le richieste per il governo proseguiamo abbiamo ancora tante prime pagine da vedere questa mattina questa ad esempio è la prima pagina della quotidiano la stampa il titolo di apertura e meloni cingolani patto sulle bollette la premier in pectore vede il ministro piano in tre mesi i comuni subito un miliardo o restiamo al buio draghi collaboriamo il pnr e del paese non del governo panetta e franco tra tesoro e banca italia e a proposito di rimanere al buio vedete torino spegne la mole la crisi purtroppo travolge anche il simbolo della città lasciamo anche la stampa siamo sul quotidiano il giornale che stamane titola in apertura fratelli di francia l'unione europea si spacca sull'energia germania e olanda bocciano il fondo antirincari e la meloni si trova alleata di macron gas vedete si parla di un asse roma parigi gli stoccaggi non bastano inverno di razionamenti e poi la guerra in ucraina test dei russi cresce l'incubo nucleare per gli americani non ci sono conferme mentre per quanto riguarda la politica nazionale e chiaramente salvini che tiene botta scrive il giornale ecco le sue condizioni la lega dice lui al viminale e questo il nodo da sciogliere nella formazione della nuova squadra di governo siamo sul fatto quotidiano si parla anche qui della guerra in ucraina ma in questo caso dell'invio di armi dall'italia inviamo armi per la pace scrivono i colleghi del fatto quotidiano ma chiev la vieta per legge in ucraina il decreto zeleschi noi negoziati mosca intanto pronta a effettuare test nucleari benedizione usa a meloni la futura premier telefono al leader ucraino conte dice in piazza per le trattative lasciamo anche la prima pagina del fatto quotidiano adesso andiamo a vedere il quotidiano il tempo questo l'argomento sotto i riflettori 15 miliardi per team offerta vedete di cassa depositi e prestiti che mette sul piatto una cifra che non rispetta i valori di mercato blitz degli uomini di draghi che fanno uno sgarbo a giorgia meloni in bilico 42 mila dipendenti proposta in attesa che rischia di affossare la rete unica e regalare l'azienda agli stati uniti intanto tra le tante problematiche che attanagliano in questo momento l'europa guardate un po le priorità dell'europarlamento è ok al carica batteria universale questa la notizia che ci propongono stamane i colleghi della quotidiano il tempo siamo sulla nazione che giustamente parla e titola bollette shock europa paralizzata la ricerca il conto del gas sfiorerà pensate un po 3000 euro a famiglia i fornitori in difficoltà non rinnovano i contatti i contratti a prezzo fisso meno onerosi a bruxelles intanto si litiga italia e francia chiedono un paracadute per le imprese simile a quello del covid la germania guida il fronte del no e per quanto riguarda la guerra in ucraina la russia diffonde le immagini del convoglio nucleare ma è mistero sulla destinazione mentre zelensky adesso è perentorio e dice non tratto più siamo sul quotidiano libero c'è il pd sotto i riflettori questo il titolo ormai il pd sembra gomorra inchiesta sulla questione mascherine mi metti le mani addosso nuove intercettazioni sullo scandalo nella sanità laziale e ancora in dieci giorni dimezzati gli anti georgia nonostante la campagna d'odio calano del 30 dal 30 al 13 per cento le persone che temono fratelli d'italia approvato un nuovo invio di armi all'ucraina zelensky chiama la meloni e lo invita a kiev e lei dice vi vogliamo liberi e poi per quanto riguarda la lega chiede vedete soldi subito per le bollette e sei ministeri queste le richieste dopo il summit del carroccio ed ora lo sport andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani ieri si è giocato in champions league è andata benissimo per le italiane partiamo dalla gazzetta dello sport che esalta i nerazzurri di inzaghi cuore inter titola la rosea che champions barcellona battuto ottavi più vicini cialano glugol e una difesa di ferro gode simone inzaghi i nerazzurri passano soffrono ma resistono il tecnico svolta ora torniamo in alto anche in campionato dunque una vittoria che può dare slancio ai nerazzurri ma grande protagonista della serata europea di ieri anche il napoli il titolo è napoli sei unico con un sei in bella vista visti sei gol rifilati all'ajax lezione di calcio agli olandesi raspadori trascinatore ipotecata la qualificazione davvero complimenti al napoli di spalletti che sta volando sia in campionato ma anche in champions league con tre vittorie su tre nel girone oggi le altre italiane milan con l'antimago leao arma di pioli col celsi di potter il portoghese che piace i blues e l'ex girù guidano i rossoneri a stanford bridge ma gioca in champions chiaramente anche la juve vincere basta juve di maria per l'assalto il maccabi arriva allo juventus stadium lasciamo la gazzetta dello sport questo invece il corriere dello sport che invece dedica ampio spazio al super napoli di spalletti napoli divino scrive il quotidiano romano ajax tramortito 6 a 1 ad amsterdam la qualificazione adesso è a un passo l'inter invece si riscopre grande 1 a 0 al barcellona champions league azzurri a punteggio pieno ossigeno invece per simone inzaghi olandesi in vantaggio poi il diluvio azzurro firmato raspadori che segna una doppietta di lorenzo zielischi ec baraschelia e simeone de laurentis dice siamo stati stellari mentre per quanto riguarda l'inter in erazzurri ritrovano la vittoria e il gioco nella sera più difficile decide una splendida rasoiata di cianaloglu simone inzaghi parla di buon segnale e oggi le altre due italiane in champions allegri ha un solo obiettivo può soltanto vincere pioli invece si presenta in emergenza a londra la juve contro il maccabi il milan invece vedete nell'incubo celsi parla anche charles leclerc che dice ferrari per sempre charles a cuore aperto sul suo futuro dunque il pilota ferrari sembra in sembra intenzionato a rimanere a lungo in rosso a maranello siamo su tutto sport che ovviamente si sofferma sulla juve la notte del senior champions scrive tutto sport riferendosi ovviamente a di maria giunto alla sua centunesima partita europea di maria che guida l'attacco contro il maccabi haifa vlaovic aspetta i suoi assist milic affaticato va in panchina parla allegri che dice anche nel 2014 eravamo a un passo dall'eliminazione e poi invece le cose sono andate diversamente le gare di ieri napoli una cosa grande inter magia per inzaghi titola tutto sport spettacolo ad amsterdam 6 a 1 all'ajax spalletti vede gli ottavi charaloglu invece firma l'impresa col barcellona e allontana la crisi sì questa vittoria è per il nostro allenatore ha dichiarato in questo caso il giocatore turco dopo il gol importantissimo messo a segno ieri contro il barcellona chiudiamo questa rassegna stampa odierna abbiamo fatto il nostro consueto giro dei quotidiani adesso ci soffermiamo sulle notizie prettamente siciliane tra sport cronaca e politica restate come sempre su sicilia 24 vi terremo aggiornati con le nostre edizioni di spazio e notizia a più tardi